ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi ovviamente appena inizia il video comincia a passare l'aereo oggi sarà il secondo video dedicato specialmente alle persone che mi hanno sostenuto nel mese di marzo sulle piattaforme di tv e patreon non mi dilungherò tantissimo perché le ho già spiegate nell'altro video cosa sono comunque sono delle piattaforme in cui si può decidere sostenere economicamente il canale in cambio si ricevono delle ricompense ok quindi a parte queste persone io generalmente non saluto perché non riuscirei a tenerci dietro e quindi mancherei anche un po' di rispetto verso una promessa fatta allora in cosa consiste questo video se vi siete persi il video precedente in questo video appunto saluterò queste persone e ho deciso che da questo mese farò anche un ripeterò il nome tipo 2-3 volte per fare una specie di trigger word e poi vi mostrerò brevemente i nuovi acquisti del canale le novità del canale di questo mese e poi farò i trigger che mi hanno richiesto quindi ho tutto qui allora ho il mio quadernino in cui c'è scritto tutto lo smalto che indosso ve lo farò vedere in un prossimo video anche se in quel video dico che pensavo l'avrei indossato quest'estate preparatevi perché questo mese sono successe un po' di cose da dirvi un po' di cose allora cominciamo dalila dalila grazie un bacione sei dolcissima sempre dalila 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 j thank you j grazie j j j j j jessica grazie jessica un bacione jessica 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 Vincenzo Lucia un bacione Lucia Lucia Valentina un bacione grazie Valentina Marco grazie Marco Sara un bacione grazie Sara Francesco grazie Francesco poi ho Andrea o Andrew non so come chiamarti quindi grazie Andrea 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 Richard grazie Richard 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 e poi penso sia un ragazzo che mi ha con il nickname Game96 Ita ho provato a scrivergli se voleva essere salutato col suo nome però non mi abbia risposto quindi lo sarò però così mi dispiace Game 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 96 96 96 poi ho Federico R Federico 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 Leander I hope I said it right Leander 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 Thank You Isabella è un nome stupendo e Francesco D grazie a tutti voi di cuore queste erano le persone di marzo io spero che ovviamente non sia miscolata nessuno ho controllato più di una volta io adoro questo quadernino ok volevo anche farvi vedere la mia maglia che non è mia non so se ho riusciato a vederla bene c'è scritto you know nothing just know l'ho regalata al mio ragazzo l'anno scorso si per il suo compleanno è un regalo molto semplice però mi piaceva tantissimo è una maglia che indossa tantissimo e l'avevo trovata su ebay non chiedetemi il link perchè non lo so allora prima di cominciare con i trigger vi mostro i miei nuovi acquisti del canale e anche vi dico un po' di novità di questo mese allora la novità più grande diciamo quella più significativa per il canale dal punto di vista tecnologico è il bluiettel il bluiettel non ve lo faccio vedere all'interno perchè è impacchettato e tutto ce l'ho rimesso al suo posto però penso la prossima settimana non lo so uscirà il video con il test di questo microfono che mi piace da impazzire ho preso ho preso anche la spugnetta perchè perchè cercherò anche di concentrarmi un po' di più sui suoni rispetto all'altra volta ok ok allora poi poi invece una novità grossa diciamo un po' sentimentale del canale che è arrivato questo mese è non so non so se avrete visto il mio ultimo video di tappi che dovrebbe essere uscito due soli fa mercoledì sto parlando al futuro perchè in realtà devo conoscere da quando giro il video questo questa è la scatola del silver button è stato molto emozionante riceverlo ve lo faccio vedere dentro c'era anche questo foglio in cui vabbè ti fanno i complimenti però uguale per tutti quindi non so eccolo qui ora vedrete cosa ho di fronte a me ce l'ho vedete lo Zen garden? non lo so lo vedete dallo specchio chiaro smr con gratuation un passing of one hundred thousand subscribers credo youtube oggi non dico che sia come una laurea perchè preferirei avere la laurea in mano però non so è un piccolo diploma mettiamola così è una targhetta che dà abbastanza soddisfazione e ovviamente mi è caduta tipo il secondo dopo che l'ho ricevuta perchè ho fatto una foto da mandare ai miei amici ancora dentro la scatola è tipo durante la foto mi è caduto ed ero lì oh mio dio tipo bella per fortuna è stata salva adesso roterò un po' meglio anche il gancio dietro quindi prima di passare agli altri acquisti piccolini di cui vi darò solo un assaggio breve 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 dei loro suoni perchè sono passata dal cinese ho preso qualcosina un'altra novità di questo mese è che ho aggiornato il mio spotify ho messo un nuovo album cui ho chiamato winter 2017-2018 in cui ci sono 13 brani dovrebbero essere sono a parte uno che non so perchè mi ha dato dei problemi ma sono di una qualità molto più alta rispetto all'altro album quindi vista che adesso la gente comincia ad andare via e tutto quanto ci saranno tutti i punti vedete che con aprile primo maggio non avrete il wifi spero possano essere di vostro gradimento questi brani su spotify o anche per l'estate insomma magari verso giugno riuscirò a metterne un altro vedremo e quindi niente mi trovate come chiara smr io lascio sempre il nome di spotify qui in descrizione però mi trovate facilmente cercate chiara smr e mi trovate e sono contenta che vi sia piaciuta questa idea di spotify è stato richiestissimo quindi niente e niente spero vi faccio piacere com'è il suo di questo proggio che l'ho trovato nell'uovo della linta che buono ok quindi quest'altra novità e anche mettere i brani su spotify mi è possibile grazie al sostegno di queste perdusone perché mettere i brani su spotify costa a un costo ragazzi ok poi questini piccoli in idea cinesi vi do proprio uno mini 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 spoiler perché voglio farci magari un trova il tuo trigger o un video con l'SR3D dedicato a questi suoni non so perché ho preso questo purpurri che ha un suono scacchiolante e poi arriva il suono del purpurri dentro secondo me è bellissimo ripeto vi farò sentire meglio un altro video poi ho preso questi pennelli perfetti per fare sketching sul ployetti sono pennelli da pittura quindi più duri ho preso queste per non dosare così per il canale ma per per la mettere in una bottiglia di acqua e fare un suono molto particolare che mi aveva suggerito una di voi un bel po' di tempo fa e poi ho ho comprato l'ucidalabbra spigatissimo proprio che però fa un suono bellissimo quindi l'ho comprato per il suono ma sinceramente le ucidalabbra non pianzono l'adoro questo è stato un grande acquisto secondo me infine ho preso dei bastoncini per la colla caldo perché sentite ma non sono stupenda secondo me questo perché quando sono da mia cucina che lei usa molto la colla caldo ha preso per caso questi bastoncini in mano ha detto che cosa sono sono bellissime allora li ho presi ok questi sono gli acquisti spero siete contenti degli acquisti di questo mese io sono soddisfattissima ultima ultima novità dovrebbero dovrebbero scritte dovrebbero essere colorato di questo mese telegram e vi mando come una notifica di un messaggio però sapete che è uscito un mio video quindi appunto vi mando una notifica magari del nuovo video così senza la scocciatura di dover ricevere una mail mando massimo una notifica al giorno ma neanche di solito quindi non vi preoccupate non è una cosa impressiva, una cosa che mando tante e in un canale la caratteristica è che praticamente posso scrivere solo io in questo modo lo faccio soprattutto magari per chi ha la mia età e chi magari sa che in gruppi di 200-500 mille persone è infattibile comunicare quindi ci si fa un canale non un gruppo perché appunto è semplicemente una cosa per cui ricevete notifiche di novità o nuovi video non è un qualcosa per cui chattare perché secondo me un gruppo sarebbe impossibile è impossibile ragazzi mi non piacciono questi gruppi di tante persone quindi non farò mai una cosa del genere ok passiamo ai trigger quindi riprendo 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 il mio quadernino Jay mi ha chiesto del quindi cominciamo è difficile per me farlo è difficile per me farlo di continuo quindi magari parlerò un po' in mezzo oggi mi sento poco però non so come alzare è difficile per me farlo ok l'ho non so come è difficile per me farlo come sapete il tuo click è il mio trigger preferito in assoluto è stato il primo vero trigger che ho scoperto è il primo trigger che mi ha fatto provare tantissimi brividi stupendi ok poi Lucia mi ha fatto scegliere e quindi ho pensato a un trigger un po' particolare per lei che voglio chiamare il trigger dell'abbraccio perché le mando un abbraccio enorme ti mando un abbraccio enorme è il suono di questo cuscino che mi sembra molto il suono di quando ho lasciato il computer quindi mando un abbraccio anche a tutti voi perché siete sempre dolcissimi come me sono stupendo non 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 andiamo a portare con leone aca Sara mi ha chiesto il troto Anche King96 mi ha chiesto il trotox Quindi lo farò intervallato da altri initiated poi vi spoilerò ho un inaudible, un tap un altro tra tra e una richiesta che mi è piaciuta tantissimo molto particolare ok allora sono contenta che questo trick mi piazza tra 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 trotototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot tr 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 poi poi ho un po' di inaudible riprendo questo libro di Lucrezia Scali l'amore mi chiede di te vado un po' più avanti però così anche chissà quanto ne aveva impattito proclamato una moto giusta di pinza per fare meglio di farlo iniziai ad accomodarsi dentro quel lungo bancone coperto da una tovaglia e altre troppe rossure plegandone al pubblico questa era una cosa più divertente perché nessuno si tirava mai indietro anzi, spesso si rischiava anche e le faranno insulti pur di gustare quelle torte la gara prevedeva l'ingresso una dopo l'altra di levare i partecipanti con la propria attenzione precedentemente per gli azatti il controllo del giudice mentre il resto delle torte era servito come mangio ad azioni e bambini dopo ogni azaggio le tre persone selezionate avevano il compito di assegnare uno o due punti mentre il giudice aveva disposto in un portaggio che arrivava fino a 5 mi passava una lista delle partecipanti inizio a chiamarle dovevo fare imprezza perché era abbastanza lunga nome dopo nome chiamavano da pelle le donne si greggiavano come si hanno l'unica differenza è che questa volta poi arrivano ancora più quelli determinati a portarsi a casa da vittori però più per il calore personale creperebbe il premere proprio pensato di cambiare nella tradizione era sempre stata così una vittoria simbolica per il nostro paese quando la perla mancava una maggiata di nomi la saliva mi andò quasi di traverso mentre non c'era il suo nome perché si rischette alla gara la vedi marciare nella direzione la scrutai da capo a piedi senza dare troppo nell'occhio cosa non semplice da fare quando uno vuoi perdere solo dettagli un vero strano ogni pazzo sui capelli otteggiavano e quindi anche si muoveva al ritmo di pazzo su quelle scarpe con il chi d'acco d'acco non poteva credere ai miei occhi allora non ero solo capace di camuffarsi con abiti bizzarri pur di rascondere la sua bellezza c'era qualcosa in me mi mettevi in il brazzo e non era legato al sospetto dato che aveva avuto modo di confrontarmi un altro per la ragazza in quanto la mia vita però ecco lei va qua qualcosa di più ok spero mi sia piaciuta questa piccola parte di inaudible e ora questo era Andrew che mi chiedeva l'inaudible e poi ho Richard che mi chiede del topping sì perché mi piace tanto il topping sul cellulare tantissimo che mi chiedeva che mi chiedeva che mi chiedeva quanto bello il tappic il Grazie. 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 Adesso voglio spiegarvi cosa sentirete, adesso farò un po' di visual triggers e intanto sentirete il suono della vecchia intro, sapete quello che ci fa? La vecchiavra, A, L, 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 quella lì, sentirete il suono, scrivete la vecchia intro, che era molto, comunque era buoso al punto delle figure di genere intola e il tapping sull'iPad. E allora applicherò un po' di tapping sul cellulare e poi metterò in, in, sopra, 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 insomma, metterò l'audio, ok? E' questa della carta, perchè purtroppo è un nuovo album qui con me e quindi non lo riesco a farlo e intanto la mia testa, però lo metterò sotto, sottofondo. e quindi cercherò di ricreare questa intro per ritrovare l'album nel caso che metterò direttamente un pochino di suono della intro. Ok, intanto vi dico qualche chiaro, perchè magari qualcuno piaceva anche così. Quindi adesso attivate un po' il suono. Chiara A S Chiara A S S S S S S Chiara A S 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 ecco Grazie. Ringrazio tanto Aranciato per questa bellissima richiesta. È proprio bella questa richiesta. Tutto, tutto, tutto. Questa commenta di farlo in un particolare provare. Mi fate la dobbiamo essere. Ora, quindi vedete... diciamo un po', ritratratra trattra Intanto la mandiamo anche un po'alamu railap�anda Quindi, abbassiamo le luci Mentre lo ho detto è quello che non uso la chiraatto sato davvero anche qui Ok dra-tra-tra-tra-tra-tra buona notte sonidor buonanotte 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 sonidor good night sweet dreams buonanotte durnes soñarse buonanotte 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 passate una nottata stupenda e rilassante metto le coperte le insuore sul vostro comodo 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 lento un bacione che l'espera Grazie a tutti